seconda edizione di jay news ben trovati apriamo l'ampia pagina di cronaca raccontandovi purtroppo di una tragedia accaduta nel primo pomeriggio di oggi è un uomo di 52 anni originario di imula si è tolto la vita nel pomeriggio lanciandosi dal viadotto dell'a14 nel territorio di tortoreto l'uomo ha lasciato la propria auto nella corsia di emergenza ha girato la protezione della rete della rete anti suicidi e si è gettato facendo un volo di circa 100 metri e la tragedia è stata segnalata da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato l'uomo muoversi oltre la recinzione inutili i soccorsi sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale il 118 mentre l'auto è stata rimossa dagli agenti del coa di pescara sono 11 giovani denunciati per la rissa della notte di capodanno in piazza dante a teramo la digos dopo le complesse indagini per arrivare all'identificazione dei protagonisti del violento corpo a corpo tra rossi e neri ha rimesso un rapporto conclusivo al magistrato in cui ipotizza il reato di concorso in rissa gravata ricostruendo la dinamica degli scontri che hanno animato l'alba del primo gennaio scorso la rissa è stata la prosecuzione di un altro episodio verificatosi il 29 dicembre in un bar di piazza martiri della libertà in centro a teramo quando alcuni giovani di estrema destra vennero insultati ed aggrediti da un gruppo di antifascisti la notte di capodanno alcuni giovani di destra incontrarono e insultarono gli avversari politici e da qui la resa dei conti la mattina successiva gli identificati e denunciati dalla rigos hanno un'età compresa tra i 23 e di 30 anni a questi si aggiunge la denuncia nei confronti di un trentenne teramano per l'aggressione della sera del 29 dicembre appunto in piazza martiri la polizia sottolinea come sia stato determinante il contributo di alcuni cittadini che nell'immediatezza del fatto agevolarono il lavoro degli agenti della questura minacciava e maltrattava i genitori per avere il denaro che gli spettava i familiari avevano saputo che gli serviva per pagarsi la droga e si sono rifiutati di consegnare i soldi il figlio un tossicodipendente di 40 anni al netto no dei genitori ha dato in escandescenza distruggendo la loro abitazione e facendo anche danni all'esterno tutto questo è accaduto il 21 gennaio scorso a san benedetto del tronto sono intervenuti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza della riviera arrestando l'uomo immediatamente il quarantenne è stato trasportato nel carcere di marino del tronto con l'accusa di estorsione e maltrattamenti le forze dell'ordine stanno ipotizzando anche l'accusa di stalking e hanno per questo ascoltato i genitori che da qualche tempo venivano vessati proprio dal figlio violento il giudice del pinto ha condannato gianfranco d'angelo ci spostiamo ad ascoli piceno ex dipendente della società calcistica a sette mesi di reclusione pena sospesa e al risarcimento dei danni causati all'immagine di giovanni senesi che nel processo era assistito dall'avvocato paolo massicci al pagamento delle spese legali che ammontano a 1800 euro il pubblico ministero ruggeri nella sua ringa aveva chiesto una condanna a sei mesi d'angelo al fine di procurarsi un vantaggio personale ha fatto scritture private contraffatte facendone poi un uso personale per ottenere biglietti per le partite dell'ascoli in particolare ha richiesto alla società calcistica a mezzo fax la fornitura per il campionato di serie b della stagione 2008 2009 4 biglietti per ciascuna gara di campionato due finanzieri in servizio alla compagnia di civita nova marche sono indagati per tentata concussione stando all'ipotesi della procura avrebbero chiesto a un ginecologo civita novese 5000 euro un iphone un ipad per sistemare presunte irregolarità fiscali i fatti contestati risalgono allo scorso novembre e ieri mattine due militari sono stati sentiti dal gip enrico zampetti davanti al quale hanno respinto ogni addebito il giurice dopo aver respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla procura deve ora valutare l'opportunità di un'eventuale sospensione dei finanzieri dal servizio oltre 30 kg di pesce sono stati sequestrati dalla capitaneria di porto all'interno di un negozio di alba adriatica gestito da cinesi perché sprovvisti di qualsiasi etichetta o documentazione utile alla tracciabilità nel corso di una verifica specifica gli uomini della guardia costiera della capitaneria di giulianova hanno controllato e poi sequestrato le merci irregolari in particolare si tratta di lumachine di mare polpo congelato in vendita in un negozio di via vittorio veneto ad alba adriatica di proprietà del commerciante cinese per l'appunto la merce è stata da prima sequestrata e ora sarà ovviamente distrutta con l'applicazione delle relative sanzioni a carico dell'esercente restiamo dal barriatica rubano l'identità di un cittadino e a suo nome attivano delle utenze con le quali effettuano delle costose telefonate all'estero il giochino riesce fino a quando l'uomo che vive ad alba adriatica si presenta un responsabile della società di recupero crediti per chiedere il pagamento di fatture in evase che ammontano a 5 mila euro dietro a quella richiesta però c'era il raggiro messo in atto dalle quattro persone che sono state identificate poi denunciate dai carabinieri della stazione di alba adriatica con le accuse di falsità in scrittura privata e sostituzione di persona sono finiti nei guai un 49enne di teramo un 43enne di corropoli un 32enne albanese residente quest'ultimo a sant'egidio la vibrata ed una polacca trentenne anche lei domiciliata a sant'egidio la vibrata i quattro erano riusciti ad impossessarsi dell'identità dell'uomo per poi attivare quattro linee fisse e telefoniche alla telecom utilizzando i numeri per chiamare soprattutto l'estero la politica in primo piano e soprattutto il terremoto che sta scuotendo la regione abruzzo il presidente e gianni chiodi iscritto nel registro degli indagati assieme ad altri 24 tra assessori e consiglieri per le presunte irregolarità nei rimborsi spese per le missioni istituzionali si difende siamo gente per bene dice il governatore d'abruzzo chiariremo tutto lotteremo fino al 25 maggio chi ci deve giuricare sono i cittadini se qualcuno prosegue chiodi con la strumentalizzazione di atti anche doverosi da parte della magistratura vuole fermarci ci deve sterminare ascoltiamolo però c'è stato il viaggio di sua moglie di quasi 3 mila euro a washington con la carta della regione no ho esibito adesso il documento che dimostra insomma che il pagamento è venuto e stato riferito a me è stato frutto evidentemente di un equivoco ma che ovviamente è stato risolto metterò a disposizione questo inquirenti che saranno sicuramente prenderemo un altro di queste circostanze secondo lei è un attacco politico nei suoi confronti questa vicenda? no è solamente una cosa che può essere strumentalizzata e strumentalizzata in un momento particolare molto delicato della vita democratica della nostra regione cioè a campagne elettorali di fatto indetta ai commizi elettorali indetti è una cosa che può essere fortemente strumentalizzata e danneggiare una parte politica senza altro Presidente le missioni sono tutte quante documentabili l'ora te lo ha detto sostanzialmente tre punti un atto che potrebbe essere strumentalizzato lo ripetiamo sono tutte visite istituzionali che sono assolutamente justificate come è normale che sia per qualunque mossa che fa il Presidente della regione tra l'altro tutto ciò che il Presidente della regione fa soprattutto quando si reca diciamo in parte Roma che ovviamente per noi è come avere noi abbiamo la sede a Roma insomma è come avere insomma una seconda luogo della regione ma anche in altre parti d'Italia ed Europa è sempre una cosa che si trova anche annunciata sui giornali perché molto spesso è una questione importante da un punto di vista anche mediatica e comunicativa Quindi secondo lei il 4 sarà tutto chiarito? Io me lo auguro, me lo auguro, io ho molta fiducia io ho lavorato molto spesso con la magistratura nei miei trascorsi professionali voglio continuare ad avere fiducia nella magistratura il 4 sarà una cartina di tornasole certo in questo momento storico ci vuole molta prudenza da parte di tutti gli attori sia istituzionali che diciamo così che fanno parte della classe dirigente allargata i ministri elettorali sono stati indetti e quindi direi insomma voglio dire ci vuole una prudenza da parte di tutti per non essere strumentalizzati perché poi si verrebbe strumentalizzati Ha paura che qualcuno voglia commissariare la politica abruzzese in particolare? C'è qualcuno che può pensare che questa che possa essere commissariata perché la politica non serve più invece la politica serve che siano i vice sindaci che devono tutelare magari le classi politiche o garantire le classi politiche che possono essere futuri vice governatori cioè voglio dire non è quello il problema è che la politica è chiamata a svolgere un compito che oggi è un lavoro peraltro un lavoro vero e proprio che i cittadini devono poterlo giudicare senza che in questa fase si possano essere delle situazioni che possono alterare i processi democratici in Abruzzo è successo spesso lei pensi che in Abruzzo sono solamente 4 i governatori che hanno completato i 5 anni di mandato elettorale e nessuno è stato rieletto cioè in 40 anni voglio dire nessun governatore solamente 4 hanno completato un ciclo di 5 anni cosa che invece nelle altre cose le vicende giudiziarie molto spesso hanno avuto un ruolo alcune volte giustificato, alcune volte meno come posso dire però voglio dire questo è un problema che l'Abruzzo si deve porre anche la vicenda della ricostruzione aquilana l'Aquila si sta ricostruendo altro che e tutti quanti parlano invece come se all'Aquila non si stesse facendo niente l'Aquila è un cantiere straordinario 40.000 persone sono rientrate nei loro casi abilazione l'università ci sta le scuole sono state messe tutte in sicurezza il centro storico ovviamente ci vorranno anni per ricostruirlo eppure passa un'immagine che è molto negativa anche della ricostruzione aquilana io posso dire adesso che un anno e mezzo che non me ne ho più che la ricostruzione sta andando avanti spero che tutto ciò possa essere chiarito io ho fiducia non lo dico per ritualità perché anche li conosco penso di avere fiducia ancora però devono stare attenti perché in questo caso tutto ciò che si fa in questo momento è strumentalizzabile io mi ricordo l'altra volta quando D'Alfonso fu coinvolto nelle vicende la magistratura prudenzialmente aspettò di iniziare insomma con le azioni giudiziarie fu arrestato nel momento in cui non siano chiuse le elezioni in Abruzzo lo stesso giorno che io fui programmato eletto lui fu arrestato beh in quel caso ci stettero attenti restiamo con l'inchiesta in regione il quadro emerso è un campionario di omissioni e raggiri tendente a lucrare ad ogni favorevole occasione in ogni ambito e per qualsiasi cifra questo malcostume è ormai assurdo a normalità avendo interessato quasi interamente i componenti dell'intero arco politico rappresentato in consiglio regionale è uno dei passaggi emblematici dell'informativa degli inquirenti riguardante per l'appunto l'inchiesta della procura di Pescara su presunti indebiti e rimborsi per viaggi istituzionali che conta tra gli indagati il presidente Gianni Chiodi il presidente del consiglio regionale Pagano e altre 23 persone tra assessori e consiglieri regionali a Chiodi vengono contestati in totale 24 mila euro per quanto riguarda il viaggio a Washington di fine ottobre 2009 il biglietto di 2872 euro in business class che secondo l'accusa sarebbe stato pagato con la carta di credito istituzionale risulterebbe intestato alla moglie del governatore Chiodi quello pagato invece con bonifico dopo alcuni mesi dalla data del viaggio risulterebbe invece a nome di Chiodi ieri il governatore abruzzese in una conferenza stampa ha spiegato di essere stato lui a pagare il biglietto della moglie e non la regione ha mostrato l'ordine di bonifico indirizzato all'agenzia viaggi e l'unica figura istituzionale della giunta regionale a non essere stato raggiunto dall'avviso di garanzia e quindi a non essere finito nell'inchiesta è l'assessore trasporti Giandonato Morra che è stato ascoltato dai colleghi di ml.it come sempre dice Morra nel suo stile scherzoso e pragmatico sono appassionato del mio lavoro e della politica io mi ritengo un amministratore pubblico che cerca di fare il suo lavoro nel migliore modo possibile con tutti i propri limiti io dal 2009 prosegue nell'intervista ho deciso di non prendere la carta di credito perché non ce n'era motivo io non ho mai chiesto un rimborso spesa non lo faccio perché ho sempre fatto da me quando vado a Roma e accade almeno una volta a settimana per le riunioni della Commissione Nazionale Trasporti di cui sono componente o per le varie trattative con Trenitalia ho sempre pagato le spese così come ho pagato di Tascamia se ho invitato a un pranzo di lavoro dei rappresentanti istituzionali questo quando riesco a ritagliare il tempo per mangiare aggiunge Morren tono scherzoso perché quando vado fuori regione ci vado per lavorare ma non è un merito conclude l'assessore regionale Trasporti è una cosa che sono abituato a fare da sempre e parliamo adesso di politica ma ci spostiamo questa volta nelle marche l'attuale consigliere regionale dell'Udc Valeriano Camela ha annunciato la propria candidatura sindaco alle prossime amministrative ad Ascoli Piceno nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane nella sede dell'Udc si è concluso positivamente il giro di consultazione di tutti i circoli del partito democratico in merito alla candidatura di Manola di Pasquale alla carica di primo cittadino della città di Teramo i comuni i cinque circoli cittadini si sono pronunciati unanimamente sulla necessità di sostenere con forza la candidatura unitaria e far convergere l'intero partito sulla figura della di Pasquale nell'unione comunale allargata la presenza del segretario provinciale Gabriele Minosse si è dunque ribadito il percorso compiuto dalla di Pasquale in questi anni di lavoro per l'intera comunità teramana ricordando le innumerevoli battaglie che l'hanno vista protagonista di una faticosa ma spesso premiante e costruttiva opposizione di politica questa volta alle regionali si parla sempre in provincia di Teramo pochi istanti fa è venuto a trovarci nei nostri studi l'ex oramai assessore provinciale ai trasporti alla viabilità della provincia di Teramo Elicio Romandini che ha annunciato la sua candidatura con Forza Italia in vista delle regionali e questa mattina si è dimesso dall'incarico in provincia ascoltiamolo al microfono di Daniela Facciolini Assessore Romandini ieri sera finalmente sono arrivate le sue dimissioni da assessore alla viabilità della provincia di Teramo è vero insomma una dimissione un po' sofferta perché se ne parlava già nei giorni scorsi poi comunque gli incontri che ci sono stati in provincia anche in regione la difficoltà maggiore è comunque a lasciare in questo momento dove insomma qualche soldo finalmente dopo 4 anni di sofferenza per soprattutto la ricostruzione i soldi stanno arrivando arriveranno anche gli ultimi 20 milioni della regione Abruzza speriamo nei prossimi giorni i primi giorni di febbraio però insomma comunque è tutto programmato io mi sono dimesso non ho voluto lasciare questa opportunità di potermi candidare alla regione ma l'hanno chiesto come coalizione di centro-destra quindi è certa la sua candidatura alle regionali la mia disponibilità è certa adesso poi vedremo nei prossimi giorni insomma questa dimissione la dice tutta sul fatto che insomma è quasi certa vedremo nei prossimi giorni anche perché sono anche l'unico della provincia che si è dimesso ad oggi nella giunta provinciale e quindi insomma l'impegno è preso però aspetteremo anche qualche giorno poi decideremo sarà sicuramente matematicamente certa ormai poi mancano 90 giorni non la presentazione delle liste tante cose possono succedere Rumors la davano candidato addirittura al Sant'Egidio la vibrata come sindaco quindi queste voci ormai sono definitivamente smentite ma come dicevo insomma io un altro giro ma lo farò quindi ho dato la disponibilità quindi altri 5 anni sarò ancora come amministratore a disposizione del partito vedremo che cosa dirà il partito insomma diciamo che al 90% sarò in regione poi vedremo gli ultimi sviluppi al 90% in regione con Forza Italia ma anche qui c'è una cosa di cino da prendere sono naturalmente con il presidente gli faccio l'imbocca al lupo sono convinto comunque che insomma tutte queste cose che si dicono speriamo comunque che si raggiunga presto la verità e in Forza Italia si sono tendente più verso Forza Italia ma insomma ho buoni rapporti con Tangredi insomma io esco da Pdl ero dirigente di partito insomma intanto abbiamo deciso una cosa quella di dimettermi quello di fare politica nei prossimi 5 anni poi nei prossimi giorni sceglieremo anche questo nodo ma se lei potesse scegliere Forza Italia ma io vengo anche da lì insomma eravamo nel Pdl quindi adesso con divisione però adesso aspetteremo ancora qualche giorno insomma la tendenza diciamo che qualche punto la tendenza rispetto al 50% insomma è stata dall'altra parte dall'altra parte da dove eravamo venuti però insomma decideranno anche il governatore insieme all'onorevole Paolo Tangredi quindi insomma lo condivideremo insieme Torniamo ad occuparci della crisi delle imprese nel territorio ascolano alla fine del 2013 le imprese attive totali sono diminuite in provincia di Ascoli di 137 unità il calo non accenna ad arrestarsi la CNA Picena analizza la difficile situazione economica nei territori Piceni riunendosi nell'assemblea provinciale che nominerà il sostituto di Gino Sabatini promosso a direttore della CNA Marchigiana il servizio di Cristiano Pietro Paolo Il nostro modello territoriale è artigiana sempre privilegiato il se per fare è questo il tema del forum organizzato della CNA di Ascoli Piceno in occasione dell'assemblea provinciale dell'associazione che si terrà domenica ad Ascoli Piceno siamo in difficoltà speriamo che il sistema bancario riesca a non illuderci e ci dia una mano per restare sul territorio abbiamo difficoltà con i rating abbiamo difficoltà con le lobby di qualsiasi genere dalle assicurative dai carburanti qui le difficoltà per l'autotrasporto per i carrozzieri e tutte quelle unità che hanno a che fare con vari tipi di lobby abbiamo difficoltà in tante cose però il 2014 ci dà un segnale di ripresa quello che noi abbiamo notato e in questi anni abbiamo anche fatto delle collaborazioni con delle psicologhe proprio ci siamo buttati giù l'artigiano l'industriale il commerciante del Piceno si è buttato giù abbiamo mille difficoltà questo è vero abbiamo difficoltà a incassare abbiamo difficoltà a trovare magari nuovi mercati abbiamo difficoltà a relazionarci con la burocrazia purtroppo la politica ha demandato troppo la burocrazia e allora ci troviamo in difficoltà per una cosa piccola e stupida noi vediamo che paghiamo dei dazi impressionanti tenete conto per un euro non un comune del nostro territorio una multa è stata pagata due volte con 80 euro di surplus oppure notate che con il sistema Equitalia fortunatamente adesso lo hanno cambiato perciò alcune multe non vengono più pagate con i dazi ma da 80 euro erano diventate 430 noi non possiamo pagare quel tipo di dazi quel tipo di onere perché purtroppo l'economia non ce lo permette però abbiamo un nuovo importante perché la mano d'opera che viene nella provincia di Ascoli Piceno è una mano d'opera importante in tutti i settori special modo il mano di fattoriero e lì dobbiamo investire con i sindacati con i comuni con le associazioni categoria con la Camera di Commercio e con la provincia abbiamo anche un know-how tecnologico importante e questo non lo possiamo dimenticare abbiamo una scuola importante come l'Università di Camerino ma come l'Università Politecnica delle Marche ma come l'Istituto Tecnico Industriale come tutti gli altri istituti anche professionali alberghiero abbiamo un alberghiero importante che potremo mettere nei nostri progetti per quanto riguarda la promozione enogastronomica perciò abbiamo tante armi al nostro sulle nostre spalle le dobbiamo utilizzare tutte quante però ecco la cosa importante in questo momento è che dobbiamo essere tutti uniti le banche la burocrazia le istituzioni i comuni e tutti i stakeholders sia regionali che territoriali devono essere al nostro fianco perché noi abbiamo la forza per riemergere e abbiamo il know-how per riemergere ci spostiamo a Teramo e cambiamo argomento dove resiste l'occupazione da parte degli artisti teramani degli ex locali OVS occupazione che oramai prosegue da circa una settimana gli artisti teramani chiedono che il sindaco Brucchi assegni il locale commerciale al mondo culturale e artistico del capoluogo non hanno infatti intenzione di andare via è un programma a lungo termine che prevede la presenza di artisti all'interno e dei locali addirittura fino a luglio date in cui secondo gli attivisti dovrebbe tenersi una consultazione popolare sul futuro del nuovo teatro a cui arrivare attraverso l'organizzazione di forum cittadini una consultazione aperta senza quorum afferma il musicista Enrico Melozzi non un vero e proprio referendum gli artisti che stamattina hanno tenuto una conferenza stampa per fare il punto su questi giorni di occupazione o come amano definirla di riappropriazione dei locali ex OVS sono tornati anche a ripeter la loro richiesta sindaco Maurizio Brucchi ossia l'autorizzazione di una mostra temporanea d'arte in quei locali in sostanza l'autorizzazione del primo cittadino di Teramo farebbe superare anche il problema della mancanza di agibilità di quegli spazi Enrico Melozzi ha spiegato perché sia come artista che come esponente dell'associazione Teramo 3.0 non ha partecipato agli incontri organizzati dal comune caso Tercas la CGL vuole chiarezza non sul passato ma sul presente non ci sono interlocutori non ci sono risposti alle nostre domande accusano i sindacalisti sotto accusa c'è la gestione commissariale del ragionier Riccardo Sora nominato da Banca Italia noi nutriamo grandi perplessità la sua gestione spiega Francesco Trivelli segretario regionale FISAC CGL non è certamente stata brillante finora ci sono cose non troppo chiare a cominciare dal perché resistono quei personaggi che avevano un ruolo di preeminenza nella vecchia gestione al contenimento dei costi al futuro della banca e ai livelli occupazionali i sindacalisti si dicono preoccupati che all'indomani dell'esplosione dello scandalo Tercas dal commissariamento a oggi sia stata operata una pulizia definita generica in cui avrebbero pagato quei dipendenti che hanno agito in buona fede mentre a livello di quadri e dirigenti chi ha sbagliato sostiene ancora Trivelli ancora lì al suo posto in alcuni casi molto in alto cambiamo argomento e andiamo a Tortoreto le suore impugnano il diniego del commissario ad acta che ha rigettato il piano di lottizzazione presentato dai tecnici incaricati per l'edificazione dell'intera area a ridosso della chiesa del sacro cuore di Tortoreto si arricchisce dunque di un nuovo capitolo la vicenda legata alla realizzazione del nuovo quartiere ad ovest della statale 16 di edificare in quella zona come è noto si parla oramai da anni quasi un decennio nel corso del tempo sono state presentate dalla proprietà la congregazione delle suore oblate del bambino Gesù varie progettualità a volte modulate in base alle proposte avanzate dalla stessa amministrazione comunale intervento vale la pena ricordare oggetto di critiche e di divisioni anche sul piano politico nel corso dell'ultimo anno dopo che la proprietà aveva presentato un progetto nei termini di legge è stato chiesto e nominato un commissario ad acta da parte della provincia di Teramo il professionista ha rigettato la richiesta di adozione del piano di lottizzazione da qui la richiesta di annullare il provvedimento con il ricorso al Tarra andiamo adesso a Torano Nuovo la Wind il terzo gestore di telefonia mobile chiede all'amministrazione di poter installare un ponte sul terrazzo del municipio il sindaco Dino Pepe dà un temporaneo stop in attesa di affrontare la situazione con i propri cittadini ascoltiamolo in un'Italia dove le comunicazioni sono sempre più nuova frontiera anche Torano si trova a dover affrontare la tematica legata alle comunicazioni cellulari la Wind ha chiesto di poter installare un ponte radio proprio sopra il tetto del comune offrendo in contropartita all'amministrazione comunale 8.000 euro su questo l'amministrazione non ha dato un no definitivo però vuole aprire una consultazione popolare perché sia noi di cittadini a decidere ricordando però che con la legge Gasparri il privato o la società che comunque gestisce le telecomunicazioni ha la possibilità anche di installare un ponte radio su un suolo privato intanto come nasce l'idea di coinvolgere la popolazione su questa importante decisione sì qualche settimana fa abbiamo ricevuto la richiesta della Wind immediatamente l'abbiamo messa a disposizione della nostra cittadinanza attraverso sia il sito internet sia attraverso un locandino che abbiamo esposto su tutto il territorio comunale è una decisione importante la vogliamo condividere con la nostra cittadinanza e quindi stiamo procedendo attraverso una serie di atti concreti di confronto con i nostri cittadini affinché si possa dare una risposta condivisa dalla nostra cittadinanza alle esigenze delle nostre popolazioni perché ricordiamo che diversi punti del nostro territorio non sono coperti dalle frequenze radio va aggiunta un dato comunque importante i termini entro cui comunque l'amministrazione deve decidere se non altro non perché insomma lo prevede la legge quanto piuttosto che la Wind possa decidere anche di percorrere un'altra strada vi siete dati a questo punto anche un termine di scarenza? Sì abbiamo ancora diverse settimane a nostra disposizione per dare una risposta definitiva alla Wind però ecco preliminare per la nostra giunta e la nostra amministrazione un confronto serio con la nostra cittadinanza prima di decidere sì o no a questa istanza dell'antenna Wind Ma il comune Mezzogaudio perché anche Controguerra pare abbia ricevuto la stessa richiesta questa dimostrazione di come le società di telefonia abbiano bisogno di fornire servizi sempre più immediati si è sentito con il collega di Controguerra Franco Carletta? Sì ci siamo sentiti perché è un problema condiviso sappiamo che in tutto il territorio nazionale sono state installate antenne anche sul territorio della Val Vibrata nei comuni a noi vicini e quindi ci siamo confrontati su questa vicenda dell'antenna Wind ma ci sono problematiche diverse dal nostro comune rispetto al comune di Controguerra Dalle colline Toranesi alla riviera San Benedettese per parlare di mercato ittico crollano i prezzi al mercato del pesce di San Benedetto del Tronto negli ultimi giorni i merluzzi non sono riusciti neppure a superare la cifra di 4 euro al chilogrammo rischiando in alcune assi addirittura di attestarsi attorno ai 3 euro ed è polemica ancora una volta sulla gestione della risorsa ittica e sul modo di intendere la pesca da parte della marineria è da tempo che alcuni rappresentanti della comunità portuale predicano la necessità di effettuare una sorta di turnover tra le barche questo perché dalle parti del molo peschereccio non tutti sembrano avere ancora capito che le regole della domanda e dell'offerta valgono anche per il comparto ittico a San Benedetto c'è una marineria bravissima a pescare affermano Giuseppe Pallesca e Giuseppe Carucci rispettivamente presidente e direttore della cooperativa Progresso ma evidentemente molto meno bravi a gestire la risorsa e l'ambito commerciale ci si ostina ad andare in mare tutti insieme a riportare tonnellate e tonnellate di pesce e poi ci si stupisce che il prezzo crolli restiamo in riviera il mercato di San Benedetto del Tronto si sposta e gli ambulanti insorgono non è piaciuta molto la nuova organizzazione del mercato infrasettimanale soprattutto i commercianti che hanno le loro bancarelle situate lungo via Le Buozzi che dovranno spostarsi verso sud in vista dello spostamento di alcuni posteggi del mercato settimanale del martedì e venerdì l'assessore alle attività produttive Fabio Orbinati e i funzionari del servizio comunale competente hanno incontrato circa 30 operatori del commercio ambulante l'incontro è stata l'occasione per illustrare il progetto per disciplinare in modo più completo la materia a adeguarlo agli interventi di riqualificazione delle aree destinate al mercato in particolare è stata approvata la riduzione da 340 a 326 posteggi dei mercati infrasettimanali di martedì e venerdì al fine di migliorare la possibilità di accesso dei mezzi degli ambulanti e recuperare all'uso pubblico posti auto crollo dei ricoveri e parliamo di sanità dal 1998 al 2012 negli ospedali Mazzoni di Ascoli Piceno e Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto al quale si accompagna una forte riduzione della mobilità attiva in entrambe le strutture l'esame dettagliato dei dati dimostra un lento declino delle due strutture ospedaliere dell'area vasta 5 accompagnato quindi da una riduzione delle attività ospedaliere considerando la sola popolazione residente senza mettere in conto la mobilità attiva nel 1998 i ricoveri al Mazzoni di Ascoli erano 18.209 mentre al Madonna del Soccorso di San Benedetto erano 11.856 per un totale di 30.065 ricoveri in 14 anni la situazione è precipitata se si pensa che nel 2012 i ricoveri al Mazzoni sono stati 12.286 con una riduzione di quasi 6.000 ricoveri in meno mentre al Madonna del Soccorso sempre nel 2012 ci si è attestati a 7.405 ricoveri con una riduzione di quasi 5.000 adegenze in termini assoluti i due ospedali dell'area vasta 5 hanno perso in totale 10.374 ricoveri e di politica sanitaria continuiamo a parlare nel prossimo servizio per il consigliere regionale Udc Valeriano Camela che recentemente ha presentato un progetto di legge sulla sanità l'ospedale unico non è priorità per la sanità picena il servizio sto portando avanti delle iniziative la più importante che mi ha visto scrittore dell'emendamento sul piano socio-sanitario regionale 2012-2014 dell'emendamento finalizzato all'istituzione dell'azienda ospedaliera a cui nella seduta di approvazione del 16 dicembre del 2011 del piano socio-sanitario ha fatto seguito la presentazione da parte mia a mia firma della proposta di legge sull'istituzione dell'azienda ospedaliera Marche Sud ritengo che fra le tante opzioni per ottenere il risultato di un'adeguata offerta sanitaria di qualità nel nostro territorio ci possa essere bene questo discorso dell'istituzione dell'azienda ospedaliera Marche Sud ospedali riuniti Marche Sud che significa azienda situata sui due plessi ospedalieri nella mia proposta di legge siccome si parla tanto ogni tanto ricorrono questi discorsi dell'ospedale unico sarebbe sicuramente un obiettivo importantissimo da raggiungere però come amo ripetere non sono abituato a portare in giro la mia comunità picena di riferimento e ritengo che sia tanto al di là da venire di questa opportunità di questa possibilità che comunque non l'ho trascurata nella mia proposta di legge perché c'è un passaggio in cui si dice che fin d'ora bisogna attivarsi per reperire le necessarie risorse finanziarie pubbliche anche di natura privata necessarie al raggiungimento di questo obiettivo e quindi come è successo nel discorso aziendalistico di Fanu Pesaro così come ha proprio dichiarato l'assessore Mezzurani in più occasioni quelle comunità hanno ribattuto per oltre vent'anni sull'opportunità di realizzare un'unica struttura ospedaliera per arrivare alla conclusione che poi questo ospedale unico poi nessuna di quelle comunità effettivamente lo voleva hanno fatto la scelta più puntuale più giusta che era quella dell'azienda ospedaliera che è entrata in vigore il primo gennario del 2011 e adesso stanno discutendo dove e come fare lo sperale unico penso che il percorso quindi questa dichiarazione dell'assessore Mezzurani all'epoca qualche tempo fa quando si discuteva l'area vasta avalli la correttezza e la giustezza del percorso che ho suggerito io per lo sviluppo del nostro territorio stanno buttando giù l'ultima casa colonica di Portodascoli mi piange il cuore Massimo Bartolozzi dell'associazione Ambiente e Salute nel Piceno è sconfortato abbiamo tentato in tutti i modi di bloccare questa cosa afferma commosso volevamo presentare un esposto ma non abbiamo avuto il tempo di farlo questa abitazione era un pezzo di storia di Portodascoli ma purtroppo non è stata inserita nel piano di conservazione dei beni storico-architettonici si pensi che il cinema delle palme è stato vincolato e questa abitazione sostiene Bartolozzi purtroppo no tutto solo per costruire continua eppure questa è l'ultima zona non coperta dal cemento ma purtroppo il vantaggio di pochi va a detrimento dell'interesse della maggioranza di politica si parla anche a Giulianova che ha visto protagonista in quest'ultima fase il sindaco oramai ex Francesco Mastromauro che ha annunciato di candidarsi nelle file del PD in vista delle regionali portando così anche al rinnovo del Consiglio Comunale e a questo punto in vista dell'appuntamento del prossimo maggio con le amministrative nasce a Giulianova anche l'associazione Gente Comune con l'ambizione di riportare il cittadino al centro dell'azione amministrativa della prossima giunta del Consiglio Comunale l'associazione ha presentato oggi le proprie linee programmatiche dichiarandosi aperta a tutte le realtà sociali associative e politiche della città che condividono gli scopi associativi e le idee per una Giulianova misura di cittadino condivisione la parola d'ordine dell'associazione che intende partecipare al prossimo appuntamento elettorale presentando propri candidati per dare il suo contributo alla creazione di una città che sia la casa di tutti accoglienti sicura confortevole piacevole per chi l'abita e per chi la visita una città dove lavorare prosegue con gente in comune dove lavorare giocare abitare riposarsi e divertirsi una città per i cittadini e con i cittadini andiamo a Santomero dove viene sollevata la polemica sulla Tares dopo l'annuncio dell'amministrazione comunale che aveva autocelebrato l'attività politica ritenendo la propria tassa tra le meno esose della vibrata il controcanto glielo offre l'opposizione che tabelle alla mano critica i dati forniti dalla stessa amministrazione soprattutto per quel che concerne il settore dei pubblici esercizi e commercio la Tares più bassa della Val Vibrata il messaggio veicolato dall'amministrazione comunale di Santomero sostiene l'opposizione appunto trova in loro nel gruppo una voce contraria l'amministrazione si legge nella nota del gruppo capitanato da Angelo Ianni del PD ha ritenuto opportuno affiggere i manifesti in giro per il comune al fine di dare informativa proprio sulla Tares ricordiamo però l'amministrazione che si è dimenticata di affiggere anche altri dati Tares relativi proprio agli esercizi commerciali che riportano quest'ente esattamente nella media dei comuni della Val Vibrata salvo poi approfondire quali sia la fonte di questi dati che a tutt'oggi non è dato sapere in aggiunta in aggiunta a questo l'amministrazione si è anche dimenticata prosegue la nota politica di comunicare ai santomeresi che il loro è uno dei comuni della Val Vibrata su 12 dove si paga la minimu vista la decisione dell'amministrazione di elevare le aliquote sulla prima abitazione sul sito del comune c'è un articolo nel quale si precisa che questa amministrazione riporta sempre la nota del gruppo PD lavora da 4 anni nel segno della comunicazione della trasparenza a 360 gradi verso i propri cittadini se questo è il modo di essere trasparenti prosegue la nota con un pizzico di polemica e ilarità c'è molto da rivedere e a San Benedetto del Tronto e ci spostiamo nuovamente nelle Marche il detto Nemo profeta in patria il vecchio adagio nel latino non trova conferma almeno per Alessandro Marconi Sciarroni che è il regista teatrale sanbenedettese tornato ancora una volta nella sua città con lo spettacolo Untitled presentato al teatro Concordia una forma in rituale di rappresentazione a metà strada tra teatro e giochi da strada il servizio di Massimo Falcioni è andato in scena nel discorso al teatro Concordia di San Benedetto lo spettacolo Untitled diretto e curato da Alessandro Sciarroni lo abbiamo intervistato l'idea di questo spettacolo nasce da una visione che ho avuto una sera un anno e mezzo fa circa quando mi trovavo a vedere un cabaret di magia giocoleria in provincia di Iesi qua nelle Marche per la prima volta vedendo i giocolieri lavorare sul palco mi sono reso conto di quanto questa pratica poi sia molto lontana dai luoghi comuni alla quale normalmente specialmente in Italia la comuniamo per la prima volta mi sono reso conto di quanta concentrazione di quanto impegno di quanta fatica di quanti sacrifici di quanto è early training di quanto sia difficile e quanta energia anche viene messa in questa pratica che è assolutamente commovente in un certo senso e anche folle perché insomma combatte contro qualcosa contro la quale non si può esattamente vincere perché era la forza di gravità e quindi a partire da quest'idea abbiamo scritto un progetto abbiamo trovato una produzione abbiamo iniziato a fare un casting alla ricerca di giocolieri professionisti e quindi sono state tre fasi di lavoro una ad Ancona una a Sant'Arcangelo e una a Barcellona appunto dove abbiamo incontrato tanti giocolieri abbiamo fatto dei workshop insieme a loro mi sono fatto spiegare anche come era la loro pratica e alla fine questi quattro sono risultati insomma i soggetti che per me erano i più adatti per commentare questa pratica rispetto al punto di vista che a noi interessava ecco non abbiamo dato una lettura univoca nel senso che ognuno può leggere in questo spettacolo quasi quello che vuole infatti anche per questo il titolo è senza titolo per me io le idee è molto chiare per me è chiaramente una metafora sulla fragilità dell'esistenza umana e trovo particolarmente interessante parlare di qualcosa che è così universale qualcosa che è così generale qualcosa che riguarda poi noi tutti andandola a cercare nelle pieghe di una pratica che invece è così specifica che sembra che riguardi soltanto i soggetti che la praticano in occasione del 27 gennaio giornata della memoria in cui si celebra il ricordo delle tragedie dell'olocausto del nazifascismo il comitato provinciale di Teramo dell'Ampia associazione nazionale partigiani d'Italia e l'associazione culturale Teramo Nostra organizzano la commemorazione del militare teramano Alberto Pepe di tutte le vittime della Shoah l'iniziativa si terrà lunedì prossimo alle ore 16 presso la villa comunale Stefano Bandini in Viale Bovia a Teramo dopo i saluti del presidente di Teramo Nostra Piero Chiarini interverrà il segretario provinciale dell'Ampi Mirko Leberardinis che ricorderà la storia di Pepe ufficiale di artiglieria deceduto nel campo di concentramento nazista nel 1945 seguirà poi la lettura di una pagina del diario della prigioniera di Alberto Pepe del messaggio inviato dall'ebreo Oscar Stein al podestà di Teramo Umberto Adamoli parteciperà all'iniziativa anche Licia Canarutto cittadina di origine ebraica che da bambina visse con la sua famiglia la sprezza della reclusione e le violenze commesse dai nazifascisti nel campo di concentramento di Teramo situato presso l'ex caserma Mezzacapo in piazza Madonna delle Grazie il comune di Sant'Omero alla condotta Slow Food Val Vibrata domenica 9 febbraio prossimo dunque organizzano l'incontro dal titolo l'olio extravergine d'oliva simbolo del Mediterraneo presso la sala Bice Valori nel centro storico di Sant'Omero la manifestazione ha l'obiettivo di promuovere l'olio extravergine di oliva e del territorio di produzione riconoscendone il fondamentale ruolo della tradizione agricola alimentare e culturale oltre a sensibilizzare gli ovicoltori al miglioramento e alla commercializzazione del prodotto anche quest'anno la rassegna ha abbinato il concorso olio extravergine di oliva Val Vibrata seconda edizione il concorso è aperto a tutti i produttori di olio extravergine di oliva dei comuni di Alba Adriatican Carano Bellante Campli Civitella del Tronto Colonnella Controguerra Corropoli Martinsicuro Mociano Sant'Angelo Nereto Sant'Egidio Alla Vibrata Sant'Omero Torano Nuovo e Tortoreto La cultura e il ruolo degli abruzzesi nella storia della medicina omeopatica sarà oggetto di studio in occasione del congresso internazionale della Liga Omeopatica che si terrà a Parigi il prossimo luglio lo studioso Gaetano Maria Miciche medico specialista in pediatria e membro della commissione delle medicine non convenzionali di Roma ha già inviato a Parigi un abstract e sta approntando lo studio definitivo che verrà presentato al congresso l'interesse nei confronti di alcuni protagonisti abruzzesi dell'omeopatia in particolare Melchiorre delfico Eusebio Caravelli e Rocco Rubini come ha dichiarato il professor Miciche si deve alle pubblicazioni di Sandro Galantini grazie agli studi dello storico Giuliese che hanno avuto grand'eco a livello nazionale di Chiara Miciche ho scoperto dati che collocano l'Abruzzo in anticipo temporale rispetto a Napoli ritenuta sempre la culla della omeopatia da ciò l'intenzione attraverso il mio studio di riconoscere a questi personaggi abruzzesi il loro doveroso posto tra gli artefici e i pionieri della nascita della omeopatia in Italia Miciche ha già espresso il proposito di venire a Giulianova per confrontarsi con Galantini prima del congresso di Parigi bene questa era l'ultima notizia voglio ricordare che questa edizione andrà in replica alle 22.30 mentre l'informazione torna puntuale lunedì alle 14 inoltre voglio ricordarvi l'appuntamento della domenica con Super 7 dove manderemo in onda i principali servizi dell'informazione settimanale di G News a me non resta dunque che salutarvi dandovi appuntamento alle prossime edizioni e ovviamente augurando a tutti un lieto e felice weekend a tutti